Il Presidente della Regione ha istituito un'unità di crisi insieme ai dipartimenti della nostra Regione per affrontare a fianco degli agricoltori siciliani quella che è un'emergenza, non soltanto più climatica ma un'emergenza anche sociale. Abbiamo affrontato i temi caldi oggi dal depoverimento delle risorse idriche, alla possibilità di aiutare gli agricoltori con i foraggi, ma soprattutto all'intensificazione di quelle che devono essere le procedure affinché subito gli agricoltori e gli allivatori siciliani possano avere degli snellimenti burocratici e soprattutto degli aiuti concreti per sopperire a questa fase delicata. È chiaro che tante delle tematiche che si possono affrontare sono di competenza regionale, alcune altre saranno segnalate al Ministero dell'Agricoltura, al Ministro Lollobrigida, per fare gioco di squadra ma soprattutto per affrontare quello che oggi è stato un segno di apertura da parte della von der Leyen, quindi della comunità europea, su alcune politiche europee che fino ad oggi non hanno tenuto conto della diversità del nostro Paese, ma soprattutto della diversità delle produzioni, soprattutto nelle aree meridionali dell'Italia.